Un cordele saluto, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, buon inizio settimana a tutti, oggi è lunedì 9 agosto, siamo nella settimana più calda dell'estate, una settimana che si preannuncia difficile dal punto di vista meteorologico, soprattutto per chi non può andare al mare, per chi non può refrigerarsi, ma deve in qualche modo sopportare il caldo a casa per esempio o sul luogo di lavoro, ma comunque ce la faremo. Intanto il Santo Dio del giorno lo andiamo a vedere subito con l'aiuto della grafica, oggi Santa Teresa Benedetta della Croce è stata internata, è stata portata in campo di Auschwitz e lì è morta all'interno di una camera a gas. Il sole è sorto alle 6.05, tramonterà alle 20 e 25 minuti. La copertina di trebimetro.com con la quale iniziamo questa mattina la rassegna e dice tutto, insomma vedete il sole è coccente, in arrivo una settimana caldissima, anticiclone africano per tutti, punta addirittura di 45 gradi anche se non nella nostra regione, ma sarà un weekend di ferragosto con il gran caldo africano, andiamo velocemente a vedere la giornata di oggi, la guardiamo direttamente dall'Italia così abbiamo uno spaccato un po' di tutta la penisola. Allora questa è la giornata di oggi e questa invece è la giornata di domani, vedete sole, caldo e soprattutto tanta voglia di mare. E a proposito di mare, questa mattina apriamo la settimana e diamo il benvenuto alla nostra nuova, nostro nuovo ospite, ma già avete capito che si tratta di una donna perché la nostra nuova ospite questa mattina è Roberta Pincini dei Bagni da Marino, siamo a Numana, buongiorno Roberta. Buongiorno a tutti. Allora vedo qua già un piccolo spaccato della spiaggia che tu gestisci, raccontaci un po' di te. Allora io sono una delle tre figlie, siamo qua dal 1958, da Marino, Marino era nonno, quindi gestione super familiare, come la clientela che abbiamo, il nostro target ovviamente è la famiglia. Allora questo è il mare di Numana, questo è il mare di Numana che questa mattina si presenta, come si presenta stamattina? Dacci tu una... Allora è mosso per la zona, c'è il mare da sud, umido, non è proprio la giornata ideale, sarà bella fosa. Anche oggi, quindi ti risulta che questa settimana sarà una settimana di gran caldo, vero? Bella intensiva, sì. Ecco, ecco, voi avete ovviamente tutto pieno, siete già... Stavo leggendo prima Roberta, poi ci salutiamo, le recensioni della tua... E devo dire che molti apprezzano la cucina, ne parleremo in questa settimana magari, eh? Come no, molto volentieri. Ecco, allora non svegliamo niente, non ti girare, rimaniamo soltanto con lo sfondo del mare, domani ci giriamo e ti facciamo vedere il lato B, la parte dietro... No? Ecco, quindi perfetto. Grazie e buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a voi. A domani. Allora, intanto i giornali, andiamo a vedere subito la prima pagina del Carlino Di Pesaro, il questore, ho chiesto rinforze il titolo d'apertura e si fa riferimento ovviamente alla sanguinosa rissa di Marotta, parla il dirigente inviata alla richiesta al Ministero, mai più una sola pattuglia. Poi ragazzini che saltellano sui binari, macchinista costretto a fermare il treno regionale, è successo tra Cattolica e Pesaro, ma a centro pagina la notizia. È la tragedia che ha colpito un giovane di 31 anni, Alessandro Oliva, che precipita e muore durante un'escursione, il titolo Volo Fatale nella Gola. Lo vedete, Alessandro Oliva sotto invece i soccorsi. Poi di spalla Monte Cerignone, Cesane, il problema degli incendi, divorati dalle fiamme, 20 ettari di bosco. A Cagli, Paglio dell'Occa che battaglia, la spunta San Francesco. E poi sotto l'ultimo colpo della VL, Moretti, il figlio d'arte. Vis, gruppo e umiltà, la squadra parte bene. Il Corriere Adriatico, volo di 100 metri, muore in ferrata. Alla Gola della Rossa, vittima un fanese. Test rapidi, il nuovo boom, richieste quadruplicate in nemmeno due settimane. Il non monito del distretto sanitario, vaccinatevi in fretta. Da oggi lo screening gratuito in vista della notte delle candele. Poi bruciano i boschi dell'entroterra. Una notte d'inferno a Monte Cerignone, a Durbino. Muore all'ospedale la famiglia risarcita a distanza di 16 anni. A Fano, virus, il sindaco Seri risponde all'appello per l'albero simbolo. Conti invece Covid, nelle Marche sono serviti 159 milioni. Sotto Rissa, i video e i testimoni per braccare gli aggressori. Oggi la convalida dei quattro giovani arrestati. I coinvolti sono di Ancona e del Maceratese. Poi VL, colpo perfezionato, è fatta anche per Moretti. Ripartiamo dalla pagina 23 del Corriere Adriatico per questa tragedia che ha colpito questo giovane, questo a Fano anche in particolare perché questo giovane abitava a Rosciano di Fano. Escursione shock, volo di 100 metri, muore a 31 anni davanti agli amici. Tragedia al foro degli Occhialoni, sul monte Frasassi. Gli altri cinque giovani recuperati con l'elicottero. Era un appassionato di montagna. Oliva viveva a Fano, era dolce e sensibile, così lo ricordano. Era anche un esperto di trekking. Ale è stato tradito dal suo amore, l'amore per appunto la montagna. Santarelli, Gabriele Santarelli, che è assessore dell'Unione Montana con Delega al Parco, dice mai andare fuori dai sentieri e poi si stringe attorno alla famiglia di questo giovane. Il Carlino era pieno di vita, voglio ricordarlo così. Il racconto di Gianmarco Oliva, il fratello minore di Alessandro, andato ieri a Fabriano con i genitori. Spero che l'autopsia faccia chiarezza la testimonianza. Uno dei cinque amici di trekking dice mi trovavo dietro di lui e l'ho visto scivolare. Mentre l'altra pagina del resto del Carlino. La gita in montagna diventa una tragedia, escursionista precipita per 80 metri e muore. Alessandro Oliva, 31 anni, nato a Fossombrone, residente a Fano. Era con altri cinque compagni provenienti dalla nostra provincia. Andiamo adesso invece sulla pagina 11 del Corriere Adriatico per parlare ancora oggi. Lo hanno fatto ieri in maniera molto diffusa i giornali per parlare della Maxi Rissa che c'è stata all'alba dell'altro giorno, alle 5 e mezzo del mattino più o meno, fuori da una discoteca, non proprio davanti alla discoteca, ma comunque nei pressi di una discoteca a Marotta. Il titolo Maxi Rissa, video e testimonianze per identificare tutti gli aggressori. Finora sono 20. Gli arrestati sono tre giovani dell'Anconetano e uno del Maceratese. Oggi la convalida. È prevista infatti oggi alle 14.30. L'udienza in Tribunale a Pesero per la convalida dei quattro arresti effettuati dai carabinieri durante la Maxi Rissa Marotta di Mondolfo, esplose in una via limitrofa al locale Mew Disco Dinner all'alba di sabato scorso. Sono tutti giovani di origine straniere, residenti fra l'Anconetano e il Maceratese. in ospedale a Dancona, invece ora in condizioni stabili, dopo il delicatissimo intervento chirurgico, il 25enne senegalese colpito da una coltellata all'addome durante la fase iniziale della Maxi Rissa. Intanto la stretta, il Mew, rimarrà chiuso per 30 giorni e in Romagna poi altri locali sono stati sanzionati. Il sindacato di polizia, il sindacato delle forze dell'ordine, più personale e strumenti idonei, mentre Baldelli e Aguzzi, due assessori regionali, sono solidali con i carabinieri accerchiati e feriti. Il questore sul Carlino, mai più una sola pattuglia. Michele Todisco assicura l'arrivo di rinforzi per i servizi notturni, chiesto l'intervento del Ministero e per il Mew Mew va tenuto chiuso, dice il capo della polizia peserese. Intanto affano il personale all'osso, ci sono agenti affetti da Covid perché non vaccinati e quindi sono rimasti a casa e quindi l'organico è un po' diminuito. Le camicie schizzate di sangue ma non hanno perso la freddezza dal comandante provinciale dell'arma parole di lode per i due militari che hanno fronteggiato la folla scatenata, bravi a non tirare fuori la pistola, eppure erano circondati da gente armata di spranghe e mazze. A destra vedete il comandante provinciale dell'arma, Luciano Ricciardi. Oggi anche il Carlino scrive alle 14 e il 30, il GIP di Pesero è chiamato a convalidare gli arresti dei quattro giovani. Uno solo, 25 anni albanese, residente ad Ancona, risponde di tentato omicidio. Poi ci sono anche gli altri tre restati, un altro 25 anni di Ancona, un 33enne dominicano di Iesi e un 23enne senegalese residente a Tolentino. Poi questa sera, a parte che sul nostro sito internet, occhialanotizia.it, sicuramente tanti avrete visto le immagini, i video che sono stati girati con i telefonini dalla gente che era lì, c'era tantissima gente, moltissimi giovani che appunto hanno documentato con il portatico, con il cellulare, quello che stava accadendo. Alcune di queste immagini sono arrivate alla nostra redazione e noi le abbiamo pubblicate. Ma c'è un altro problema, quello degli incendi, incendi che interessano, questa settimana sarà una settimana sicuramente difficile e campale anche per gli operatori che sono chiamati a garantire la sicurezza, quindi i vigili del fuoco in primis. Ebbene, notte d'inferno a Monte Cerignone, incubo cesane per un rogo a isola, doppio fronte, fiamme domate in più di 15 ore, vigili, volontari, agricoltori al lavoro. Aguzzi ringrazia, sono vasti incendi che hanno interessato complessivamente quasi una decina di ettari di boschi, boschi autottoni e macchie in due siti molto distanti tra loro. Il primo nella notte tra sabato e domenica verso le 23.45 nei pressi di Monte Fagiolo, ai confini dei comuni di Monte Cerignone e Macerata Feltri, ha distrutti 15 ettari di bosco, l'odore acre è arrivato fino alla Repubblica di San Marino. Poi altri incendi, un altro incendio come abbiamo detto vicino ai cesane, insomma è una zona questa che è stata interessata in queste ore, come vedete anche dal resto del Calino, queste due immagini sono state interessate a questi vasti incendi, sono i fronti del fuoco negli incendi di Monte Cerignone, immagini spettacolari per quanto drammatiche. Boschi in fiamma, allarme a Urbino e nel Monte Feltro, il titolo a pagina 5, il primo rogo, come abbiamo detto a Monte Cerignone e poi il secondo sulle cesane con altri 5 ettari di bosco in cenere. Ricorderete sicuramente le cesane hanno già pagato in termini boschivi, di incendi boschivi qualche anno fa, con incendi molto vasti. L'altro rogo, come dicevamo, divampato ieri mattina nei terreni di Isola del Piano, 4 anni fa, ecco, vedete, come dicevo, bruciarono 200 ettari di bosco sulle cesane intorno a Canavaccio. Poi c'è quest'altra notizia che riporta il Carlino questa mattina di Taglio Basso, nugoli di ragazzi invadono i binari, un gruppo di ragazzi che invade i binari, treno si ferma appena in tempo. Che cosa è successo? Lo racconta la nostra Angelica Panzieri. Dunque si divertivano ad attraversare i binari della linea adriatica con il buio, come se fosse un gioco di società e non una sfida mortale. Stazione di Cattolica, ore 2.30 di ieri mattina, nel pieno della notte, un gruppo di giovani minorenni, almeno una quarantina, ha invaso i binari con i treni in transito. Il macchinista, partito da Rimine, da Rimine diretto a Pesero, li ha notati in lontananza ed è stato costretto a bloccare il convoglio per poi far ripartire, e per poi far intervenire polizie e carabinieri per liberare la linea da questo gruppetto di persone. E abbiamo anche la fotografia. Siamo in grado di farvela vedere, un nostro reporter ce l'ha inviata, vedete la stazione di Cattolica e questo gruppetto di persone con il treno fermo lì alla stazione. Insomma, questo è il giochino dell'altra notte che si sono inventati per evidentemente tirarsi un po' su. Un rogo minaccia le case e l'ospedale, il sospetto del raid di un piromane, allarme in via Camposanto Vecchio, siamo a Senigallia, vicino al ponte dell'autostrada c'è stato un incendio poi anche a Corinaldo, nella cittadina dell'Interland a fuoco, 600 metri quadrati di rifiuti nella discarica. E poi sempre dalla pagina di Senigallia, i proprietari escono, i ladri entrano, rubano oro e denaro. Ennesimo furto in casa a Trecastelli, allarme e polemica politica. È stata svaliggiata una casa in via Nori De Nobili a Brugnetto di Trecastelli, mentre dal vicino non sono riusciti ad entrare. È accaduto sabato sera, mentre i proprietari erano fuori. Poi da Urbino il Corriere Adriatico ci riporta una sentenza alla fine di un processo che ha visto protagonista un uomo di 50 anni, Giancarlo Pigliacampo, che era residente a Tavoleto e che è morto nel 2005, il 31 dicembre esattamente del 2005, in un corridoio dell'ospedale di Urbino, per la mancata formulazione diagnostica ed esecuzione del corretto iter terapeutico della dissecazione dell'aneurisma della orta ascendente. Quindi aveva tutto questo, ma in realtà all'ospedale gli hanno detto che semplicemente era l'influenza. E quindi l'hanno rimandato a casa. Poi è morto. E dopo 16 anni giustizia è stata fatta. La moglie ottiene giustizia 16 anni dopo e l'Asur è stata condannata al risarcimento per errori inescusabili. Questo è quello che troverete sulla pagina di oggi del Corriere Adriatico. Fatale la dissezione, come abbiamo detto, poteva essere salvato. La moglie Fiorella dice la somma non ripaga nulla, clima ostile contro di noi sin dall'inizio. Sin dall'inizio di questo processo. Ecco, per la cifra, in edicola si compra il giornale. Così sopravvive la Fano dei Cesari. Green pass e didattica senza sfilata. Siamo sulla pagina di Fano. Allestimento nella corte malatestiana con le associazioni Colonia Giulia Fanestris e Semachia Elenon. Dunque, come vedete, sono le fotografie, alcuni spaccati di questa Fano dei Cesari, quella che è rimasto della Fano dei Cesari, allestita nel fine settimana nella corte malatestiana. Mentre sotto, Federico Fabri, un ingegnere di 44 anni, che è nuovo dirigente dei lavori pubblici nel Comune di Fano. Al Comune di Fano. Stretta finale a fine mese per gli altri concorsi, prove orali per tre posti. Andiamo invece adesso sull'altra pagina di Fano del Corriere. Quell'albero non è stato abbandonato. Anche io l'annaffio regolarmente. Il sindaco risponde all'appello della volontaria del Gattile, mentre l'assessore Brunoni assicura e dice che la cura di questo albero è stata affidata ad Aset. Perché tutta questa attenzione attorno a questo albero campestre, arso dal sole in questi giorni? Perché questo acero campestre ricorda, in questo parco che c'è a Fano, le vittime del Covid-19. E a ottobre ci sarà addirittura un bosco. E poi altre notizie che troverete sulla pagina di Fano del Corriere. Ma noi ci fermiamo qui perché oggi è lunedì e quindi molte pagine sono dedicate allo sport. Poi in particolare tantissime pagine sono dedicate alla straordinaria avventura azzurra, alle Olimpiadi di Tokyo. Con pagine e pagine di foto e racconti per le tante medaglie che sono state portate a casa. E quindi noi ci fermiamo qui. L'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. E per le segnalazioni, come sempre, avete il numero a disposizione, 338, lo vedete, 4968 250. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.